Sono Simone Lanciotti di Bicilastrada.it, sopra di me vedete il mio collega Nicola Checcarelli e qui l'ospite di questa giornata, di questa puntata, è Federico Melle di Selle Italia. Buongiorno a tutti. Buongiorno Federico. L'argomento, come avete visto dal titolo di questo video, è appunto la nuova Selle Italia Flight che è stata proprio introdotta qualche giorno fa. È un modello iconico per il marchio veleto e la nuova evoluzione di questa sella introduce interessanti modifiche. Nicola, che cosa è cambiato sulla nuova Flight? Vuoi farci tu un piccolo preambolo? Sì, allora io faccio magari una piccola introduzione e poi le domande più tecniche le facciamo a Federico. Noi abbiamo già fatto un articolo di presentazione della nuova Selle Italia che ha fatto qualche giorno fa il cambiamento principale sicuramente nella lunghezza. Con la flight andiamo alla Selle più corta, sono 24,8 cm per settembre, o 3,27 cm per settembre, quindi anche la flight è più corte. Poi richiedo a vedere se ci sono altre modifiche anche nella costruzione della forma della Selle per dire cosa a Nandello più precedente. Certo, allora sicuramente la flight si ripresenta dopo molti anni con un restyling sia della forma che di alcune caratteristiche principali. Allora, come dicevi giustamente tu, la flight bus è una Sella corta, come potete vedere qui. La lunghezza è più o meno 2,7 cm in meno della flight precedente e, come diciamo caratteristica fondamentale, ha la seduta piatta che viene ripresa da tutti i modelli precedenti. A differenza delle storiche flight, la flight bus ha la scocca vista, come potete vedere. La scocca vista permette di, oltre ad essere un dettaglio di design e di stile, permette di abbassare ulteriormente il peso della sella, che nella versione kit carbonio, versione S3, pesa 157 grammi. Ok, ok. Senti, ti ricordo, ti faccio una domanda sempre un po' legata alla storia che tu stasera, perché comunque io, come dicevi da tanti anni, vi ricordo quasi i primi eredi, non i primi, però il primo periodo di flight si sono spaventato circa 30 anni fa, nel 1990, e poi che è un po' di riporto delle demo, che è stata una grande sella, di alcuni gran campi che si rivolgiamo, quella che è una grande storia, ma anche storia storica. Come è che si è stato un buon applauso in questi anni, dall'artista professione ai mondiali, quali sono stati cambiamenti che si rivolgono nella storia? Allora, la sella, flight, ha, come dicevi tu, 30 anni di storia. La prima volta che è stata mostrata al mondo era nel 1990, ed era una sella totalmente diversa rispetto a quella pubblicata oggi. Come vedete dalla foto, la forma della sella non era piatta come quella attuale, aveva un parco di titanio, e riprendeva un po' la forma tradizionale delle selle dell'epoca. Tuttavia la flight è stata la prima sella ad avere il carri a vista, il rail. Perché? Perché il signor Bigoli, che è attualmente il presidente, nonché proprietario di Selle d'Italia, aveva bisogno di innovare. e, pensando, si è ingegnato in una soluzione che alleggerisse ancora di più la sella e le donasse appunto un aspetto stilistico nettamente migliore. Quindi si è messo a tragare tutta la pelle della sella intorno ai rail, in modo tale che si vedessero e si alleggerisse la sella. Questa è la storia della prima flight. Dopo, dopo molti anni, circa 17, nel 2007 abbiamo una riedizione della flight. Il cambiamento principale lo si può vedere nel naso, che, diciamo, viene per la prima volta evidenziato con un occhiello il logo flight e, diciamo, la forma riprende praticamente quella della flight 1990. Per capirci, la flight pubblicata nel 2007 è quella che ha vinto anche le Olimpiadi con Vinopolo. Dopo il 2007 abbiamo un'altra riedizione della flight nel 2013 che prevede la seduta completamente pianta come quella dell'attuale flight booth e, di fatto, le propone un design un po' più moderno e un po' più stilisticamente adatto ai tempi moderni. e la flight quella pubblicata nel 2013 è quella che Vanderbilt l'ha utilizzato fino ad oggi. Scusate, questa qui è appunto quella che dicevi nel 2007 di proprio di Vinopolo dove c'è l'occhiello che si vede sulla punta della sella. Esattamente. Dicevamo, la flight versione 2013 è quella che fino ad oggi ha utilizzato anche Mattia Vanderbilt e i campioni come Kale Viva. Quindi siamo venuti ad oggi nel 2020 con la pubblicazione della nuova flight booth che è comunque l'SLA corta che va a riprendere tutta la nostra gamma di celle corte con la SLR booth la Nobus booth e l'SP0 booth. Ok, Federico, una domanda. Tu hai parlato di Mattia Vanderbilt nella presentazione che abbiamo pubblicato abbiamo detto che è stato il primo a testare questa sera in occasione non solo ma in occasione comunque del campionato mondiale di Cirocros quest'inverno. quale ci sono stati di voi suoi feedback che si è proprio impressione che magari andremo a presto a vedere. Allora, sostanzialmente la richiesta di Vanderbilt era quella di non modificare completamente una sella che già gli andava bene e che già gli ha permesso di dirigere su qualsiasi terreno strada, mountain bike e ciclo cross. Da qui ci siamo messi al lavoro per non rivoluzionare appunto la flight ma consentire di mantenere la seduta piatta accorciandone solo la lunghezza e provando a leggerire ancora di più il peso che in una sella che per un campione che praticamente deve iniziare su ogni gara è un aspetto fondamentale. Ascolta, un altro aspetto interessante credo di quello che ti ascolta. Le differenti principali con la SLR che è l'altro modello più venuto con le più di cui si è più conosciuto di Selle d'Italia? Allora, come vi dicevo la flight ha una seduta piatta mentre sull'SLR possiamo notare che la seduta è nettamente più anatomica. Un'altra caratteristica fondamentale che distingue la flight dall'SLR è il peso. L'SLR è candidata come una delle selle porte più leggere al mondo. con un peso di 122 grammi mentre la flight è un modello un po' più pesante e un po' più resistente ma questo deriva dalla storia dei due pro-regolotti. E altre caratteristiche che possono distinguere le due selle sono appunto la storia. la flight deriva dalla storia trentennale mentre la SLR bus quest'anno compie 20 anni. Entrambe hanno vinto molto perché comunque sono due state due sede leggendari e percentuali in Italia quindi di fatto continuano una tradizione vincente. Senti, una curiosità non so se tu ha dei numeri per i professionisti qual è la sella preferita diciamo fra l'uno o l'altra? Allora per i professionisti diciamo è una domanda un po' particolare abbiamo professionisti che preferiscono stare su una seduta un po' più anatomica che quindi li accolga molto bene in sella con una posizione stabile mentre abbiamo professionisti come appunto Van Der Poel che preferiscono una seduta piatta e quindi più mobile. Quindi non c'è una sella che possiamo dire preferita rispetto all'altra? No non c'è una sella diciamo che viene preferita sono due selle SLR e Flight che vengono usate diciamo parimenti dai professionisti perché come vi dicevo abbiamo Flight e Kale B1 tra quelli che usano la Flight e nelle SLR possiamo avere campioni anche nel passato come Valverde come Purito Rodriguez quindi sono selle comunque che hanno fatto la storia e hanno vinto in qualsiasi campo e con qualsiasi campione rimane quindi comunque l'aspetto personale senti vedo una domanda di Roberto Medei che ci chiede c'è una sella adatta a stare in bici parecchie ore usando usandola i professionisti possiamo sicuramente dire di sì ma chiedo anche una risposta a te certamente certamente abbiamo una sella che è adatta all'utilizzo diciamo endurance e attualmente non abbiamo ancora previsto una versione della Flight Boost in questa diciamo versione endurance ma abbiamo prodotto la SLR Boost Endurance Superflow che è una sella dedicata alle lunghe distanze alle lunghe percorrenze e grazie al gel all'interno dell'imbottitura permette di assicurare sempre dei comfort ok ti volevo fare un'altra domanda a proposito di utilizzo è una sella che possiamo consigliare anche per la mountain bike quindi produsio abbastanza vario allora tendenzialmente sia SLR che Flight Boost sono utilizzabili anche per la mountain bike perché diciamo noi non consigliamo un uso specifico e viene comunque dalla storia di Selle Italia adattare un po' tutte le selle anche all'uso mountain bike e sicuramente diciamo la versione kit carbonio pur essendo resistente e molto molto diciamo adatta per questioni di peso io la sconsiglio diciamo per la mountain bike sostanzialmente perché in un uso mountain bike si viene molto sollecitati da vibrazioni cadute salti se è possibile prevenire dei danni è sempre meglio è chiaro sì perché la possibilità di prendere urti ovviamente è molto più molto più frequente assolutamente rimanendo nel dettaglio di questa sella abbiamo come credo quasi tutte le selle di Selle Italia sia la versione super flow sia la versione senza foro oltre alle due misure S e L quindi la 135 per i bacini più stretti e la 145 per chi ha ossi schiatico un po' più larghe il discorso foro quindi super flow oppure senza foro quali sono le differenze chi dovrebbe magari utilizzare più una più l'altra in questo senso certo come dicevi giustamente tu la flight boost è disponibile per la prima volta perché storicamente è una sella nata solo in versione larga è disponibile per la prima volta in versione S3 L3 e S1 L1 quella che ho in mano io è la versione S3 quindi col foro centrale super flow qual è la differenza tra una fill e una super flow sostanzialmente risiede nella seduta una persona che si flette molto sulla sella quindi ruota molto il bacino sulla sella avrà bisogno di una sella con foro super flow per scaricare adeguatamente la pressione dalla zona centrale e perineale le persone che ruotano poco il bacino sulla sella tendenzialmente possono usare la versione fill quindi S1 L1 la larghezza della sella quindi o 135 millimetri o 145 millimetri dipende dalla larghezza delle osse schiatiche che noi tendenzialmente misuriamo con lo smart caliper ok allora leggo qualche altra domanda Federico così vediamo di soddisfare anche chi ci sta seguendo allora uno Ken Bill ci dice una delle caratteristiche principali della vecchia flight tra virgolette era la ridotta larghezza della gola cioè era molto rastremata e quindi permetteva di avere più spazio nella zona delle cosce ci chiede se questa caratteristica è rimasta più o meno invariata allora tendenzialmente le caratteristiche della flight boost sono rimaste sostanzialmente invariate rispetto alla flight tradizionale l'unica cosa che abbiamo cambiato è leggermente il foro centrale che nella flight flow del 2013 era molto più piccolo ma l'abbiamo allargato semplicemente per una questione per assicurare maggiore comfort durante la pedalata perché appunto andando a ruotare molto il bacino sulla sella dai nostri studi ci siamo resi conto che c'era bisogno di uno scarico centrale superiore per poter appunto scaricare adeguatamente tutta la pressione dalla zona perineale e quindi alla lunga evitare anche possibili problemi salutari ecco ok infatti mi riallaccio a questo perché pochi minuti fa era arrivata un'altra domanda cioè se le versioni L2 andranno a sparire cioè non verranno più prodotte e quindi si andrà L1 o L3 sì confermo la flight boost sarà disponibile solo in L1 o in L3 per la versione larga e in S1 S3 per la versione stretta questo perché appunto abbiamo allargato leggermente il foro centrale ok e allora continuo con le domande qui una domanda un po' più tecnica commerciale ci chiedono se sono disponibili altri modelli oltre alla versione quella in carbonio quindi altri diciamo carrelli e eventualmente anche i prezzi per i prezzi se vuoi Piero ti rinviamo all'articolo che abbiamo pubblicato di presentazione dove li abbiamo comunque inseriti poi Federico sentiamo cosa ci dice certo allora sicuramente sono disponibili anche in altri rail abbiamo la versione top che è quella in carbonio che è come prezzo 284,90 euro poi abbiamo la versione in T316 che è la versione intermedia diciamo e concludiamo con la versione tradizionale in manganese come tutta la gamma di Selle Italia che ha un prezzo di 129,90 euro perfetto e la differenza sostanziale è sempre è solo legata ai materiali e al peso giusto quindi la forma e le caratteristiche della sella rimangono identiche quindi questo è importante da sottolineare nella versione in manganese nella versione in manganese la differenza è anche nel rivestimento mentre nel T316 nel carbonio la sella viene rivestita col Fibratec nella versione in manganese viene rivestita con un materiale che noi chiamiamo SoftTech che è un materiale che comunque assicura massima resistenza e massimo comfort ok ci puoi spiegare quali sono le differenze sostanziali fra questi due materiali sì Fibratec è un materiale che di fatto assomiglia molto alla pelle è un materiale che diciamo dona alla sella un aspetto molto molto stilistico e molto qualitativo mentre il SoftTech è un materiale di produzione industriale che comunque diciamo dona alla sella quella quell'aspetto di design ma anche di proprio tatto del materiale che consente di mantenere la qualità pur abbassando dei costi ecco ok perfetto guarda prendo un'altra domanda che in questo caso va un po' al di fuori dal discorso Flight nello specifico ma interessa il concetto di S e L quindi di misura perché la vado un secondo a ricercare Alberto Danese ci chiede fino a che misura delle ossa va bene la sella stretta è chiaro che non c'è forse una risposta precisa al millimetro ma magari voi avete un consiglio indicativo un range su cui basarsi allora la risposta precisa io non ce l'ho quello che consiglio sempre è di andare presso un rivenditore di fiducia che potrete trovare sul nostro sito alla sezione dealer locator e diciamo fare il test con lo smart caliper per verificare in maniera diciamo precisa e scientifica in proprio 30 secondi qual è la taglia ideale della sella è ovvio che le persone con un bacino molto stretto saranno più inclini ad utilizzare una S mentre le persone che tendenzialmente hanno un bacino largo sono più inclini alla versione L ma diciamo per la veridicità scientifica consiglio sempre di riferirsi allo smart caliper e di effettuare il test che non impiega più di 30 secondi sì anche perché poi la scelta della tipologia del modello di sella non dipende esclusivamente dalla larghezza delle osse schiatiche che è comunque un aspetto forse il più importante però non è non è l'unico quindi bisogna considerare anche questo questo aspetto per la mia esperienza poi confermami se sbaglio Federico è meglio cioè crea meno problemi a chi ha un bacino stretto utilizzare una sella larga che viceversa cioè chi ha un bacino largo e utilizza una sella stretta potrebbe avere qualche fastidio e qualche difficoltà in più per un motivo semplice che chi utilizza una sella più larga pur avendo un bacino stretto andrà a cercare un appoggio magari scorrendo leggermente più in punta di sella anche se non si trova più nella posizione ottimale il contrario è un po' più difficile mi sbaglio? non ti sbagli di fatto se uno ha il bacino largo e va a utilizzare una sella stretta può incorrere in problemi di dolori veramente alle osse ischiatiche perché se noi andiamo a vedere il punto di seduta ideale che è questo e noi appoggiamo le osse ischiatiche correttamente è praticamente impossibile andare a incontrare problemi è ovvio che quello che consigliamo noi come azienda è quello di comunque identificare la propria sella ideale e la propria taglia ideale soprattutto perché individuata la taglia poi scegliere il modello è molto più semplice e si può variare su tutta la gamma di selle e taglia e altre domande arrivano Federico che sono interessanti Ken ci chiede sempre a prima vista sembra più imbottita del modello precedente quindi ci chiede se è così o se è semplicemente un effetto magari delle foto l'imbottitura è praticamente la stessa della flight versione 2013 non è cambiata sostanzialmente niente probabilmente il fatto che sembri più imbottita è perché c'è la scocca a vista che quindi permette di vedere la scocca della sella ok però questa potrebbe essere un'informazione interessante e altro aspetto che non so se avete già valutato o meno anche se in passato l'avete già fatto ci chiedono se sarà disponibile anche un modello test da poter testare magari presso i rivenditori in futuro sì come per tutta la gamma di sella Italia stiamo sviluppando la flight boost versione test che ha una grafica completamente diversa tendenzialmente versione bianca con l'indicazione del BRP cioè il biomechanical reference point che è il punto dal quale prendere le misure per sella manubrio e sella movimento centrale e penso che a breve sarà disponibile presso i rivenditori ID Match e sella Italia quindi sì perfetto infatti a proposito di ID Match Piero ci dice che il suo biomeccanico è il sistema ID Match e se ha un vantaggio per trovare la sella ideale gli posso rispondere già io perché esatto il sistema ID Match è poi quello che hai citato già tu adesso che fa riferimento a sella Italia quindi sicuramente ti può aiutare a trovare misura e forma e forma ideale io vorrei continuare Federico adesso con qualche curiosità e qualche domanda che non è strettamente legata alla sella Flight ma magari alla sella Italia in generale e che può riguardare anche lo sviluppo di questa sella cioè come avviene lo sviluppo il rinnovamento di una di una sella quali sono le basi principali quali sono gli aspetti che si prendono in considerazione abbiamo parlato di Van Der Poel quindi anche i feedback dei professionisti oppure si parte comunque da un concetto più legato a basi biomeccaniche di appoggio e di ergonomia certo noi tendenzialmente cerchiamo di mettere insieme un po' tutte le informazioni derivanti sia dai professionisti che dai consumatori che durante tutto l'anno noi incontriamo alle varie Gran Fondo alle varie eventi alle varie fiere e poi cerchiamo comunque anche di mantenere fede ai prodotti storici come nel caso della Flight più o meno lo sviluppo di una sella impiega circa un anno e passa da una fase di brief prodotto attraverso l'approvazione della grafica poi viene fatta una produzione di uno stampo e prodotto lo stampo si inizia la produzione dei campioni i campioni poi vengono sottoposti come nel caso della Flight Boost al test su strada e passato il test su strada nel caso della Flight Boost anche in gara con Van Der Poel che ha vinto il mondiale di ciclocross viene approvata sia la forma che lo shape che il padding che i materiali vengono testati all'interno degli stabilimenti sell'Italia per resistenza abrasioni per cadute alla luce del sole quindi si fanno tutti i test del caso e poi la sella viene diciamo avviata alla produzione e la trovate su tutti i negozi sento una curiosità il test su strada che tu mi hai detto di cui ci hai parlato anche con i pro riguarda essenzialmente solo la resistenza o ci può essere anche un feedback dei professionisti che vi chiedono magari di modificare qualcosa una forma qualche caratteristica certo i feedback che noi prendiamo sia dai professionisti che dai tester su strada non è solo sulla diciamo durata dei materiali e sulla resistenza ma è anche sul comfort sulla seduta sul padding cerchiamo di affrontare nel dettaglio tutti gli aspetti che una sella può avere è ovvio che poi dobbiamo anche diciamo mantenere una certa coerenza a livello di prodotto e come nella diciamo flight boost abbiamo mantenuto una seduta piatta anche perché diciamo è nella storia della flight avere una seduta di questo tipo pur cercando comunque di mantenere alti livelli di comfort e di performance certo assolutamente e a proposito di questa nuova sella che è diventata appunto boost quindi più corta ti faccio una domanda su queste nuove forme che si stanno ormai affermando da oltre un anno direi che si stanno diffondendo ne abbiamo già parlato in un altro video tra l'altro proprio io e te che abbiamo fatto a Rimini però te lo richiedo perché magari qualcuno che ci sta seguendo non lo ha visto quali sono i vantaggi un po' di queste selle corte e secondo te secondo Selle Italia sarà un po' un'evoluzione che andrà cioè si andrà verso inevitabilmente la sostituzione di tutte le selle ad una forma più corta allora parto dall'ultima tua domanda sicuramente le selle corte sono un trend di mercato e nessuno lo nega da qui a sostituire tutte le selle lunghe con le selle corte secondo me no infatti anche in Selle Italia comunque non essendoci pure la SLR Boost stiamo mantenendo la tradizionale SLR perché perché sì le selle corte mi aggancio alla prima domanda hanno dei vantaggi hanno dei benefici sicuramente permettono al ciclista di trovare in maniera più immediata e semplice il punto di seduta ideale e quindi di trovare immediatamente il comfort in sella permettono di abbassare il peso perché essendoci meno materiale si abbassa il peso notevolmente l'SLR Boost nella testimonianza che pesa 122 grammi e anche la Flight Boost che pesa 157 grammi si è abbassato notevolmente il peso rispetto alla versione lunga poi sicuramente c'è un aspetto stilistico che è innegabile perché comunque lo vediamo su tutte le foto e su tutti i giornali specializzati la sella corta dona a tutta la bici un aspetto un po' più bello da qui a sostituire in pieno tutte le selle lunghe penso di no e credo di no perché comunque in alcuni casi avere una sella lunga può aiutare perché molte persone sono comunque abituate a spostarsi molto nella sella ad avanzare ad arretrare insomma certo se una sella più lunga ti permette di farlo con più facilità senti una curiosità mia perché tu hai parlato giustamente di pesi visto che avendo meno materiale abbiamo un peso più ridotto non so se te lo puoi ricordare o lo sai ma quanto ha cambiato il peso rispetto ai primi modelli cioè le selle anni 90 hai un'idea di quanto potevano pensare io onestamente non lo ricordo però è una curiosità che mi è venuta ascoltando adesso le tue parole indicativamente la flight boost rispetto alla flight 1990 ha un risparmio che è intorno ai 50 grammi più o meno non riesco a ricordarmi il numero preciso ma infatti mi immagino che non è possibile ricordare il valore il range me lo ricordo abbastanza bene ecco e comunque in termini percentuali è tanto cioè se prendiamo le due top di gamma sì tieni conto che nei 30 anni di storia si sono intercorse delle innovazioni a livello proprio di materiale l'introduzione del carbonio la scocca con del carbonio all'interno l'imbottitura stessa il rivestimento sono cambiati molto i materiali ma come per tutto il settore bici in generale ottimo senti Federico guardo ho altre due domande che più o meno sono tutte legate allo stesso concetto che forse è quello un po' più difficile e spinoso da rispondere non riguarda la flight nello specifico ma le selle in generale cioè ci chiedono più o meno quanto può durare la vita di una sella e anche se cambi in base al materiale di realizzazione immagino al materiale quindi del carrello io ho un'idea poi magari rispondo e ti chiedo se voi avete dei consigli o se chiaramente dipende poi da molte variabili certo sicuramente dipende da molte variabili come qualsiasi prodotto dipende da uno che utilizzo ne fa e che manutenzione come mantiene la sella insomma tendenzialmente le selle sono testate per durare tutte alla stessa maniera indipendentemente dai materiali è ovvio che il carbonio è un po' più fragile ma dipende appunto dall'utilizzo e una sella per noi più o meno può durare dai 10 ai 20 mila chilometri più o meno poi dipende appunto quanto viene utilizzata come viene utilizzata e dalla persona ecco comunque tu hai dato ci hai fornito un dato interessante che poi è quello che più o meno avevo in mente anche io perché secondo me è corretto come hai detto tu dire che non c'è una durata che possiamo definire un po' per tutti perché più o meno c'è anche il peso del ciclista è chiaro che un ciclista da 55 60 chili l'andrà a usurare a danneggiare molto meno di un ciclista magari di 80 chili quello è inevitabile quindi tenete conto anche di questo aspetto e giustamente non ragionate con gli anni o con i mesi di utilizzo ma con il chilometraggio quindi se percorrete 3-4 mila chilometri l'anno probabilmente la sella vi durerà tanti anni io per l'esperienza che ho avuto in passato con quella che sto facendo ora concordo in pieno con quanto hai detto tu cioè molti anni fa quando mi allenavo più seriamente quindi con circa 20 mila chilometri l'anno cambiavo circa una sella ogni anno non tanto perché la sella ci rompesse ma semplicemente perché poi le selle tendono a prendere magari qualche vizio di forma qualcosa che ti può far pedalare un po' meno bene adesso che al di là delle selle test o di selle che testiamo però pedalo un po' di meno quindi 10 11 12 mila chilometri l'anno tendenzialmente la durata la doppia cioè andiamo intorno ai due anni quindi questo è sicuramente un dato temporale che può essere utile anche a chi ci ascolta quindi considerate fra i 10 e i 20 mila chilometri in base anche al vostro peso in base anche ai fondi stradali quindi se lo utilizzate più su asfalto magari anche con un po' di asfalto sconnesso o sterrato che incide anche sotto questo punto di vista e quindi Maurizio Rizzardi ci chiede sì in pratica una sella ogni due anni se la utilizzate tanti chilometri sarebbe ottimale perché vi permette di ottimizzare la seduta ti faccio un'altra domanda poi ci avviamo alla chiusura Federico sempre legato all'usura ci chiedono Claudio quali sono gli indicatori di usura di una sella anche in questo caso non credo sia facilissimo dare una risposta oggettiva però magari qualche indicazione la possiamo dare sicuramente ci sono degli indicatori come dicevo prima dipende anche dall'uso che uno ne fa e anche dalla disciplina perché sulla mountain bike è nettamente diverso che dalla bici da strada tendenzialmente in maniera generale si può vedere diciamo quando una sella ha finito il suo ciclo di vita dal padding e soprattutto dalla parte centrale della sella perché si iniziano a notare delle flessioni molto più consistenti della scocca e del materiale quando la sella inizia a curvarsi nella parte centrale vuol dire che sta finendo il suo ciclo di vita ed è il momento di cambiarla anche perché non avendo più il supporto adeguato non solo nella parte delle osse schiatiche ma anche nella zona perineale dopo si inizia ad avere qualche problemino di comfort che è facilmente evitabile con una sella diciamo nuova certo quindi quando la sella comincia a prendere una forma che non è più quella sua naturale è il momento di cambiarla perché si vanno a perdere un po' quelle che sono le caratteristiche di appoggio per cui viene studiata quindi è un aspetto molto importante anzi molto spesso ci sono ciclisti anche i nostri elettori che ci dicono che magari vengono fuori dei problemi a sopra sella dei fastidi una delle prime cose da valutare è da vedere esattamente proprio se la sella ha magari esaurito o comunque è vicina alla fine del suo ciclo di vita e questo è un argomento che vedo suscita tante domande ci chiede Maurizio se il fondello in questo caso ha una sua importanza non è magari il tuo settore specifico però è un mix delle due cose direi ovviamente esatto sicuramente una parte la fa anche il fondello il giusto sta nell'avere il fondello adeguato con la sella ideale per te quindi se uno riesce a trovare questo mix va avanti bene ecco infatti anche io sono di questo avviso cioè è un po' un mix da trovare certo è ovvio che se uno ha il fondello che è ideale ma ha la sella che è nella taglia sbagliata tutto si va a neutralizzare ecco certo o magari nel tempo ha preso una forma non più proprio ortodossa io almeno per l'esperienza mia è soprattutto quello quando la sella comincia ad avere una forma che non è più quella ottimale anche se di pochissimo si possono avere dei fastidi ultima cosa su questo aspetto e poi andiamo a chiudere il peso della sella quindi selle più o meno robusti o pesanti può incidere un po' sulla durata o questo è un valore che non ha tanto significato perché gran parte della differenza sta nel carrello allora no non incide nella durata perché comunque tutte le selle dalle più leggere alle più pesanti vengono sottoposte a dei test di stress molto importanti e che ne certificano la durata in maniera omogenea e normale insomma quindi non cambia a livello di durata ecco ottimo Roberto anche ci fa una domanda a cui posso rispondere anche io cioè quanto è importante nella posizione in bici la sella è molto importante ovviamente insieme a le misure corrette avere però la sella giusta la sella adatta alle proprie caratteristiche perché la sella è il punto in cui si scarica il maggior peso del ciclista insieme un po' al manubrio quindi è chiaro che il punto di contatto e di conseguenza è fondamentale avere una sella su cui si sta comodi perché scegliere una sella magari molto leggera che ci piace molto o che ha caratteristiche comunque particolari ma su cui non stiamo comodi soprattutto sulle lunghe distanze ci darà inevitabilmente dei problemi ok io direi che abbiamo risposto comunque a tante domande abbiamo un po' approfondito quelli che sono i dettagli di della nuova sella Flight Boost vi invito anche a tornare a vedere il nostro articolo di presentazione poi magari nei prossimi mesi appena potremo tornare a pedalare si spera insieme a Federico organizzeremo anche un test su strada così avremo anche un feedback reale di quello che è un po' la caratteristica e le caratteristiche di questa sella io a questo punto ringrazio Federico ringrazio tutti voi che ci avete seguito vi do appuntamento ad altre dirette anche oggi pomeriggio sui canali in questo caso di MTB Calta quindi parleremo di mountain bike e di e-bike in particolare di come scegliere un e-bike usata mentre con Bici da strada appuntamento a mercoledì pomeriggio alle 16 parleremo in questo caso di un tema molto interessante in questi giorni cioè di come andare a modificare l'alimentazione e l'idratazione per allenarsi sui rulli quindi allenandosi un po' di meno rispetto al solito perciò quali sono le accortezze quindi grazie a tutti per ora e un saluto grazie a tutti